Sindaco, un orgoglio, lo ripete spesso, avere Marta Bassino come concittadina, in questo caso anche testimonian. È un grande piacere, un grande orgoglio avere Marta Bassino come cittadina, perché comunque rappresenta un'eccellenza, ma non solo borgarina, ma cuneese, territoriale, quindi questo dà sicuramente lustro e spunto ai nostri territori e ai nostri montagni, perché attraverso lo sport come mezzo importante si possono raggiungere dei fini di turismo, di trasmissioni anche di grandi valori, di etiche morali che poi Marta Bassino porta nel mondo, quindi la sua figura è molto importante, non solo sportiva, ma anche nell'esercito, quindi questo vuol dire tanto come caparbietà, come impegno, come responsabilità, come passione e amore per uno sport, ma per un territorio intero che ha Marta e ci trasmette, è molto contagiosa, quindi anche noi saremo al suo fianco, sostenerla per tutta la stagione. Come regione dobbiamo essere orgogliosi di avere una campionessa, una campionessa che rappresenta il nostro territorio, il territorio che comunque lo vediamo tutti i giorni, ne parlavamo anche prima, è un territorio che è amato anche dai piemontesi e non solo, e questo è un motivo di orgoglio per una regione come la nostra, e avere una campionessa come Marta, come sponsor delle nostre bellissime montagne, nel nostro bellissimo territorio è un orgoglio che portiamo dentro, dobbiamo essere responsabili anche per queste cose qua.